buongiorno oggi si fa al giro il nostro caro vecchio amico Pierino si fa a tendere meno male ha fissato lui l'appuntamento piccinino ieri mattina si è alzata alle retta da mare ma con la fila ci andrà va bene dai ora si aspetta arrivi poi si parte boh la metà si spera a vedere buongiorno è buongiorno badante volerai cibili di badanci bellino ma mi ha fatto stare mezzo come te la senti come te la senti freddo e ghiaccio c'era una nobbia una pazza claudio il poromo Pierino ha svoltato nella mia fungaia aspetta a metterci le manacce la vedo guarda il fungo ha trovato il vecchiarello dove toccava venire se no andava in bianco bacino ma dopo con la lingua pulire no non ce l'ho non ce l'ho bello te lo posso pulire io ma ma guarda è venuto a prenderlo nella fungare appena appena finito di dirgli qui cinque di fila ce l'ho presi ci sono passato sì 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 o va il perino allora ha svoltato gran fungo bello 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 se lo vedi se li vedi belli quali quei due e poi e poi il babbo il babbo allora allora questi sono belli allora il babbo è più un po anche questi sono importanti ma parecchino importanti allora li divido sarebbe una coppiola non romperli vada che lavori fanno subarzo subarzo questo è mangiato il babbo il babbo allora via portiamole lì accanto al babbo quello è un bel babbo l'ho detto che ho finito di dirti c'è una strisciata di spie enormi da la palla fino a giù ho cominciato a vedere qui dove incominciava le prime le prime guarda ce n'è una due tre quattro cinque sei sette e dai 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 allora chissà il gambo com'è no no pensavo no penso al frollo ma è gigante il babbo non ti allontanà troppo guarda qui fra le spie bacino questo vabbè bacino triplo scempio vai senza leccatina dai una bella pulizia questi vanno a governare per bene le spie questa volta non hanno fallito ma guarda se ci guardi nella strisciata vanno anche più avanti eh il babbo è spettacolo eh te che dici ascolta la vecchina non aveva torto ma la vecchina sicuramente non arrivava giù nel borlo quindi magari qualcosa anche su l'aveva fatto solo ci arrivano tutti e l'hanno pettinato lì e questo è quanto eh questo tipo romo di pierino impitugliano nella macchia però il compenso ho trovato ho perso piero l'ho 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 come se mi ha fatto venire fino a qui c'ero bianco ci passa io i rovi è anche io di là ma qui è proprio l'intisogliamento totale guarda se non è ti stronco il bastone sui grupponi festina è tutto feste si è o no io lo pesterò anche ma per fammelo vedere ti stavi ammazzando guarda ti dico mi basta anche se me lo fa vedere sotto è bianco è bianco vai mi sdegni il cesto però si ora appoggio caschi no davvero guarda attenti ci vuole ma l'assistente geriatrico testina gli stivali che l'ho detto io ma che ti metti gli stivali è bagnato mi mettono cosa guardi dove guardi testa tromba ma vedi ora questo è il gambo sarà proprio bello duro è senti però che lo sai che io lo pulisco un po come te che c'ho da fare l'orto con la terra e porto via dal bosco intanto guarda intorno ragazzi si rilascia la vecchina si può vedere si torna a gente ma la vecchina non penso si arriva giù questa no ma si quella guardavo lì intorno al viottolo quello è quello di un tempo all'orto con la terra e porto via dal bosco si è si è si è ma la vecchina non penso si arriva giù questa no ma si quella guardavo lì intorno al viottolo si è quello di un tempo vedi di cima dove troviamo quest'ora è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.